Ciao bimbi, come state? Un grosso bacio, abbraccio dalla maestra Valentina. Fatemi sapere un po' come vanno le cose, come state a casa, se vi annoiate, se vi divertite, se vi piace, se vi manca la scuola, se vi mancano le maestre, perché no? Fateci sapere e fatemi sapere qualcosa. Allora, ho pensato di farvi questo video un po' perché appunto mandarvi un po' del materiale così per iscritto non è proprio insegnare al 100%, diciamo. Manca un po' il confronto e la condivisione e soprattutto mancano le vostre domande che sono sempre molto interessanti e approfondiscono sempre il nostro discorso. Allora, abbiamo iniziato a fare il punto di vista, vi ho mandato alcune schede per capire il punto di vista, cioè da destra alla sinistra, e poi anche che osservando lo stesso oggetto, la stessa casa, le stesse cose da un punto di vista diverso, le cose si vedono diverse, ok? Questo, sì, spero lo abbiate capito, è un lavoro che continuiamo comunque a fare e state pur tranquilli che anche da grandi vi verrà utile. A proposito del punto di vista, volevo farvi notare, prendete un foglio vuoto, un foglio bianco e una penna, scrivete sopra un grosso numero 6, come quello che ho fatto io, spero che lo vediate. Adesso vi chiedo, con questo numero 6, semplicemente di capovolgerlo, così, e vedete che viene fuori un numero 9. Quindi, io vi chiedo, vi faccio una domanda, qual è giusto? È giusto il numero 6 o è giusto il numero 9? Oppure sono giusti tutte e due? La stessa cosa, se provate, con il numero 8, voi fate, adesso non l'ho fatto, perché mi è venuto in mente adesso, avevo preparato il 6 ma non avevo preparato l'8. Niente, prendete la birra o la matita, scrivete sempre su un foglio bianco il numero 8. Dopodiché, questa volta non lo capovolgete, perché se lo capovolgete totalmente, upside down, sotto sopra, di nuovo viene il numero 8, ma invece di capovolgerlo così, lo mettete in orizzontale, come la mia mano, e vedrete che si forma non più un numero, ma si forma un simbolo matematico, che non avete ancora fatto in matematica con la maestra Anna, ma non ha importanza. Magari qualcuno di voi lo sa, magari no, oppure l'ho imparato adesso, che si chiama infinito. Infinito perché? Perché può andare avanti mille, tantissime, infinite volte e non si fermerà mai, un po' come il cerchio. Ok? Quindi anche in questo caso qual è giusto? È giusto il numero 8 o è giusto il simbolo dell'infinito? Nessuno dei due, cioè, o meglio, sono giusti tutti e due, dipende dal punto di vista che lo si guarda. E la stessa cosa è, per esempio, quando in classe succedono un po' delle, insomma, un po' qualcosa, tra di voi, tra voi bimbi, è uguale. Ok? La maestra, cioè noi, vede la situazione dal suo punto di vista e ogni bambino interessato vede la rispettiva situazione dal proprio punto di vista. Quindi, qual è il giusto? Qual è lo sbagliato? Anche lì, non è che c'è proprio un giusto e uno sbagliato. La maestra vede una cosa, Mattia vede una cosa, Samuele ne vede un'altra, Riccardo ne vede un'altra, alcune cose che si vedono sono simili o uguali, altre cose possono essere diverse, perché magari uno è più lontano, è più vicino, da dietro, da davanti, ho solo sentito, non ho visto. Quindi, anche questo cosa ci porta un attimino a fare una riflessione che le cose, anche quello che ci succede tutti i giorni, va guardato, va studiato e va scannerizzato, mettiamolo così, in relazione ai diversi punti di vista. Quindi, non c'è più un giusto, non esiste un giusto totale e uno sbagliato totale. Vanno, le cose vanno capite, studiate, vagliate, secondo il punto di vista. Allora, io vi ho già tediato abbastanza, 5 minuti di messaggio, di video, spero abbiano reso un po' l'idea. Io vi mando ancora un grosso bacione e, niente, ci vediamo, se mi viene in mente di fare qualche altro video, ve lo faccio. Ciao, ciao, un bacione, ciao.